come risolvere i problemi riguardo a fortnite che non si avvia e crasha sempre quando stai giocando salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial su fortnite in questo nuovo video vi spiego come risolvere questi tipi di errore danni riguardo a fortnite che non riesci ad avviarlo oppure crasha direttamente nella partita quindi in questo caso andiamo direttamente su epic games poi oggi andremo anche a scaricare vari driver proprio per la scheda grafica per fortnite quindi anche il supporto che ci da epic games di scaricare i driver quindi andiamo direttamente nella sua libreria quindi libreria vai su fortnite tre puntini vai su gestisci entriamo direttamente nella sua cartella e andiamo su fortnite game questa da 52 giga binaris win64 scendiamo fino a giù fino a trovare le 4 applicazioni di fortnite quindi andiamo così a cancellare fortnite client win64 shipping e il fortnite client questo qua che c'ha il tipo il logo di easy anti cheat e lo cancelli questo vai su easy anti cheat e lo cancelli questo easy anti cheat torniamo un attimo indietro chiudiamo qua e facciamo un attimo la verifica al gioco una volta fatto le 3 applicazioni di fortnite Ritorniamo direttamente nella sua cartella, quindi fai su gestisci di nuovo, andiamo nella sua cartella, Fortnite Game, Binaries, 1.64, scendi fino a giù. Andiamo su Fortnite Launcher, tasto destro sopra, proprietà, compatibilità, eseguiamo il programma come amministratore di sabito di ottimizzazione, schermo intero. Lo fai per tutti gli utenti. Esegui il programma in modalità compatibilità, se c'è la spunta qua sopra togli questa spunta. Modifica l'impostazione dei piedi elevati, sistema avanzato. E fai ok, fai applica. Una volta fatto andiamo direttamente sui servizi, quindi vai sui servizi. Andiamo fino a trovare così il servizio Epic Online Service, ed eccolo qua, che è arrestato, facciamo avvia. Tipo di avvio, metti manuale, e fai applica, e fai ok. Chiudiamo un attimo qua. Ora, entriamo così nella cartella di AppData, vai su esegui. Percento, AppData, percento. Clicca qua sopra, AppData, vai in local, chiudi Epic Games. Dobbiamo cancellare varie cartelle di Epic Games e di Fortnite, mi raccomando, poi dobbiamo rifare l'accesso al nostro account di Epic Games. Epic Games, cancello questa cartella. Sempre in AppData, local, vedi se c'è un'altra cartella di Epic Games, come Epic Games Launcher, cancello questa cartella. E se c'è quella di Fortnite, cancello la cartella di Fortnite. Vai di nuovo su AppData, vai su local, vedi se qua c'è la cartella di Epic Games o di Fortnite. Svuota anche il cestino. E non ci resta che avviare Epic Games e fare il login, quindi dobbiamo rifare l'accesso al nostro account. Quindi posso direttamente accedere con qualsiasi account che tengo qua sotto, Google, oppure metti il tuo indirizzo email di Epic Games e fai l'accesso. Poi, un altro consiglio che ti posso dare è di disinstallare, se hai solamente Fortnite e Epic Games sul computer come gioco, quindi hai come gioco solo Fortnite, disinstalla direttamente Epic Games, reinstalla il launcher e reinstalla pure Fortnite assieme al launcher di Epic Games. Chiudiamo un attimo Epic Games e ora andiamo direttamente su il sito di Epic Games, che ti ho lasciato in descrizione, aggiornamenti dei driver di grafica. Qui ci sono i driver di grafica di NVIDIA, AMD e Intel, io uso quello di NVIDIA. Vado su NVIDIA, scarico così i driver per GeForce, quindi metto così la mia scheda grafica e installo così il programma ed ecco qua il programma di NVIDIA. Questo qua, vado direttamente su driver e faccio un aggiornamento dei driver e li installo. Stessa cosa che puoi fare anche su AMD. Download Windows driver, cerchi anche il tuo prodotto, quindi devi scegliere la grafica, processore, chipset, stessa cosa anche con Intel. E fai aggiornamenti dei driver di grafica per Fortnite. Se non dovesse bastare puoi andare direttamente tasto destro su Start qua, gestione dispositivi, vai su schede video, aggiorna driver, cerchi driver nel computer, fai avanti, scegli da un elenco di driver, inserisci questo qua, fai avanti e installi il driver, poi andiamo direttamente su ESEGUI. Andiamo così a cancellare i file temp, quindi %temp%, qui ci sono tutti i file immondizia che non ci servono, che puoi fare direttamente CTRL A e cancelli tutti questi file e fai una bella pulizia sul sistema. Puoi farlo direttamente anche su Windows, quindi basta che scrivi qua file temporanei, elimina file temporanei. Quindi per altri problemi ancora fammelo sapere sotto al video, grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial su Fortnite. Ciao!